Ammesso a finanziamento il progetto Garanzia Giovani presentato dal comune di Ariano Irpino, 15 i tirocini da attivare sul Tricolle per permettere ai più giovani di prendere dimestichezza col mondo del lavoro, in particolare con la pubblica amministrazione. In Irpinia tra i progetti approvati ci sono quelli dei comuni di Altavilla, Volturara, Flumeri, Prato la Serra, Torre le Nocelle, Contrada, Bisaccia e Taurano. Ariano ha inteso partecipare subito a questo progetto per far sì, vista anche il periodo particolare che attanagli i nostri giovani, per far sì di avvicinare i ragazzi e dargli un'opportunità. In che cosa consisterà? Consisterà in sei mesi di tirocinio formativo, il comune di Ariano ha pensato di fare, con delle figure tutte molto qualificate, infatti si è proposto, si è pensato di fare, di richiedere delle borse lavoro per 15 persone, 15 persone tutte laureate che andranno nelle varie aree del comune di Ariano Irpino. Queste le figure ricercate dal comune di Ariano. Tre profili da ingegnere, due da architetti, uno da ingegnere informatico, quattro a legali avvocati, due con profili di conservatori di musei, due con esperti in attività di protezione civile e uno esperto in contabilità. Quindi abbracceranno tutti i settori del comune di Ariano. Questi ragazzi per sei mesi entreranno a far parte e a toccare con mano viva le attività del comune. Quali saranno i tempi? Quando si potrà cominciare? Allora, adesso il progetto, dopo l'approvazione, verrà inserito nel portale Click Lavoro e dopodiché si potranno accettare, si faranno delle richieste da parte dei ragazzi e sarà la stessa piattaforma che incrocerà la domanda e l'offerta. Quindi diciamo che è al di fuori delle nostre possibilità di decidere chi sarà, ma sarà la piattaforma che farà incontrare la domanda e l'offerta, la domanda, quella che abbiamo fatto, con i ragazzi che hanno questi titoli. Infatti verranno privilegiati sicuramente prima i ragazzi del territorio, siamo stati ad un convegno a Napoli dove ci spiegavano. Nel caso non ci siano queste professionalità, piano piano si allargeranno prima la provincia per andare anche extra provincia, fino a tutta la regione. Questo progetto della regione è stato contestato da alcune parti, garanzia giovani per alcuni è considerato come un progetto fantasma. Come lo vedete voi invece? Noi per ora possiamo essere solamente contenti perché per questa misura sono stati investiti oltre 30 milioni di euro da parte della regione Campania. Abbiamo fatto il progetto, probabilmente abbiamo fatto un buon progetto per essere stati scelti. Speriamo che sia un progetto che possa dare l'opportunità, sicuramente dare l'opportunità a 15 giovani laureati, di avvicinarsi alla macchina pubblica, di fare un'esperienza che sicuramente porteranno con loro nel proseguo della loro attività lavorativa.